Un mare di opportunità è il tema di tre seminari promossi sull'unicità del Golfo di Gela che si terranno oggi, domani e sabato rispettivamente a Lampedusa, Licata e Gela. Durante la tre giorni saranno illustrati gli obiettivi, le azioni e i risultati sulle nuove opportunità di sviluppo che i gruppi di azione costiera hanno messo in campo al fine di promuovere l'accrescimento locale e sostenibile per dare impulso alle economie costiere e alle zone di pesca fondato sullo coinvolgimento di attori pubblici e privati intestatari di interessi comuni che operano nel contesto territoriale dei comuni di Gela, Licata, Butera, Lampedusa e Linosa. I cinque centri hanno dato forma ad una società consortile, si chiama GAC Unicità del Golfo di Gela che ha come obiettivo quello di attuare il piano di sviluppo locale. Il GAC è caratterizzato dalla presenza di connotati unici di natura e bellezza architettonica, storica e culturale al cui interno le tradizioni marinare sono radicate. Il primo appuntamento si trarà oggi alle 16.30 nella sede dell'area marina protetta Isole Pelage a Lampedusa prevista la partecipazione di numerosi esperti del settore che riceveranno il saluto del sindaco Giuseppina Maria Nicolini identico copione il giorno dopo nella sala convegni del Carmine di Corso Roma a Licata. Verranno forniti entro dicembre i box ad Arsena di Marianello, 40 box prefabbricati al servizio dei pescatori e in più come avevamo assunto l'impegno in campagna elettorale verranno fornite colonnine di acqua e luce da installare all'interno dell'area portuale e un sistema di videosorveglianza che potrà permettere naturalmente di mettere in sicurezza l'area portuale. Il gruppo di azione costiera Unicità del Golfo di Gela opera nell'ambito FEP ed attua progetti di sviluppo e gestione di finanziamenti rivolti agli operatori della pesca. L'obiettivo principale del GAC è di attuare il piano di sviluppo locale la cui finalità è di integrare il flusso turistico con le attività connesse alla pesca attraverso interventi finalizzati a moltiplicare le opportunità di integrazione e diversificazione per le aziende del settore. La tre giorni si concluderà sabato 5 dicembre alle 16.30 nella Pinacoteca Comunale di Viale Mediterraneo a Gela. A Gela è prevista la possibilità di installare, anzi l'installazione di box per consentire ai pescatori di depositare le reti finalmente vicino del porto, cosa che fino adesso non era possibile e oltre ai box anche dei servizi igienici, dei box che hanno all'interno i servizi igienici in modo tale da poter dare una vita più decorosa alla vita del porto. Torino Collura, coordinatore tecnico del GAC. La nuova programmazione ridà una nuova linfa a quello che è il mondo della pesca e anche delle attività legate alla pesca, quindi la pesca come aiuto diretto ai pescatori ma la pesca come aiuto diretto ai territori per promuovere la cultura della pesca. Il GAC ha una componente pubblica pari al 40% formata dai comuni che hanno aderito, il 37% è costituita da una componente privata mentre il restante 23% da un insieme di addetti ai lavori nella filiera ittica dell'economia locale.